Nonostante le ombre che oscurano il mio passato, ora sento che sta per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Una bambina di undici anni, una vita già sofferta, una storia di una nuova vita. Il mondo, visto attraverso gli occhi di Sarita. Ciao, Sarita! Ah, a me sarò la tua insegnante. Quella compagna di scuola, che sarebbe diventata la sua più cara amica. L'ironia per combattere il suo passato, ridere per cancellare le lacrime. Una persona estranea alla sua vita, ma non al suo cuore di bambina. Un passato da dimenticare, una vita da ricominciare. Il suo primo amore. Poi, un qualcosa di inaspettato. Un improvviso cambiamento. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.